Buon pomeriggio a tutti, grazie per aver accettato l'invito a partecipare a questo incontro che come sapete si inserisce in una più ampia cornice di iniziative distribuite in modo cavillare su tutto il territorio nazionale, volute dal Ministero della Cultura in occasione della giornata nazionale del paesaggio 2021. Siamo ancora nella fase dei saluti, chiedo scusa quindi passiamo la parola al Presidente dell'Ordine degli Architetti, l'architetto Raffaele Cecoro. Ringrazio tutti i presenti a questo evento organizzato dalla nostra Commissione Ambiente e Paesaggio. Ringrazio la dottoressa Marta Ragazzino e contestualmente la dottoressa Generelli e il dottor Salerno. Io mi rimetterò a fare dei saluti molto brevi perché purtroppo siamo in seduta di consiglio, abbiamo fatto una piccola pausa per onorare questo impegno e perché ci tenevo veramente ad essere presente. È da qualche anno che il 14 marzo è dedicato a celebrare il paesaggio italiano, quindi promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme. Purtroppo questo è il secondo anno che questi eventi vengono messi in essere a distanza perché ci siamo trovati sia l'anno scorso che quest'anno ad avere una giornata del paesaggio con musei, parchi archeologici e siti culturali tutti chiusi. Questo è un grande rammarico ma purtroppo è l'unica modalità per riuscire a portare avanti questa iniziativa. Io mi invito come sempre a fare i complimenti alla nostra commissione che riesce sempre a dar vita a degli eventi di elevato spessore culturale. Ringrazio tutti i colleghi presenti e mi scuserete se fra qualche minuto sarò costretto a disconnettermi ma purtroppo abbiamo una seduta di consiglio molto lunga e per questo non potrò rimanere a farvi compagnia fino alla fine. Ringrazio tutti e vi auguro buon lavoro. Grazie Presidente, grazie mille. Adesso passiamo la parola al Presidente della mia commissione, in effetti di cui io faccio parte da ormai un decennio. Quindi la Commissione Ambiente, Paesaggio, Sostenibilità e Biarchitettura quindi preseduta dall'architetto Massimo Carfora Lettieri. A cui diamo la parola. Prego Presidente. Buonasera, grazie, grazie agli intervenuti, a tutti. Grazie alla possibilità che ci è stata offerta dalla Direzione regionale dei Musei della Campagna e dai musei presiduti e diretti dalla Dottessa Generale e dal Dottore Salerno di poter organizzare e condividere assieme questo evento. Questo evento è importante perché è importante la tematica che andiamo ad affrontare. Come Presidente della Commissione, come architetto, ma come cittadino di questa terra, consentitemi di ricordare innanzitutto, o a me stesso, del diritto del paesaggio e delle bellezze naturali, che è un principio fondamentale della nostra Costituzione, nonché dell'Unione Europea, così come ci ricordava la Dottoressa Nagozzino, sancito dalla Convenzione Europea del Paesaggio, in realtà trova le sue origini, fra l'altro in un'antichissima legge, determinando di Borbone, il riscritto del 19 luglio del 1841. Questa cosa non è rilevante perché possiamo affermare come cittadini di questa terra che la cultura, la tutela, la valorizzazione del paesaggio e del progetto del paesaggio è inserita nel nostro modo di essere, nel nostro modo di rapportarci col territorio. Ma al tempo stesso, insomma, mi vengono in mente le parole di Italo Calvino quando descrive Esaura, cioè noi non dobbiamo dimenticare che talvolta un paesaggio invisibile condiziona quello visibile, cioè tutto ciò che si muove al sole è spinto dall'onda che batte chiusa tutto il cielo calcareo della roccia. Quindi sono questi momenti di incontro, come quello di oggi, dove l'incontro di confronto sulle varie tematiche che affrontiamo fanno sì che questi paesaggi invisibili, che non devono essere sempre per forza rette interpretati in maniera negativa, però vengono alla luce con le loro teorie, i loro richiami e, se volete, anche con i loro controsensi. Controsensi perché gli elementi che caratterizzano un paesaggio, che caratterizzano il paesaggio, non sono un casuale mosaico, ma li potremmo descrivere come una mappa armoniosa che diflette l'apporto dell'uomo con la natura, la stratigrafia delle presenze e delle assenze, che talvolta, specialmente nel nostro territorio, le assenze sono più incombranti delle presenze. Oltre che il plasmarsi sul territorio della società e della società sul territorio, come le due cose si influenzano vicendevolmente. E da questo rapporto, da questo reciproco rispetto che ci deve essere, nasce l'idea di progetto del paesaggio. Da progettista, da architetto, allora l'interrogativo che ci poniamo spesso è quello di capire qual è il ruolo che una strada, un manufatto, una stanza, un qualsiasi spazio di uso in generale, si deve, come si comporta, come si relaziona con il paesaggio e come il paesaggio recepisce, scusate, o addirittura adotta questi elementi. Allora, prendiamo a modello una stanza, una stanza con una finestra affacciata sul paesaggio. È inevitabile che il punto di vista, o i diversi punti di vista, cambiano in una frenetica ricerca di equilibrio. Quell'equilibrio che rappresenta la nostra capacità di lettura e di interpretazione del contesto, che rende unico un paesaggio in un determinato momento, proprio perché riflette quelli che sono gli elementi della società che portano alla qualità e alla tipologia di lettura. Noi, insomma, dobbiamo ricordarci, non dobbiamo dimenticarlo, anzi, che viviamo in un paese il cui paesaggio è noto universalmente. Un paese che a ragione è stato definito un museo diffuso, cioè tutta l'Italia è un museo a cielo aperto. Statisticamente in Italia quasi un comune su tre ospita un museo e quindi i musei, ovvero le istituzioni museali, perché giustamente, come diceva la dottoressa, è importante che la relazione che esista con il museo sul territorio, e quindi le istituzioni museali, la loro capacità di aggregazione e di divulgazione diventano il centro di interpretazione del territorio e della comunità di cui sono parte di espressione, perché spesso i musei sono musei del territorio. Se tralasciamo per un attimo le grandi collezioni museali, le grandi e importantissime blasonate musei, ci sono tanti micromusei sui nostri territori che rappresentano il territorio stesso, per cui rappresentano la comunità in cui si inseriscono. E in quest'ottica i musei non sono solo responsabili delle collezioni presenti al loro interno, ma hanno l'alto compito di promuovere la cultura del posto, del patrimonio culturale che ci circonda dentro e fuori le proprie mura. Concludo, perché lascio la parola a chi più di me è in grado di affidare la tematica, con le parole di Settis, cioè che l'ombra che noi umani cerchiamo sul mondo invadendolo con ciò che noi vi abbiamo creato è certo più ingombrante di qualsiasi altro essere vivente, ma va vista, giudicata, corrente, interpretata, non mediante la pretesa di un ritorno alla natura, bensì attraverso il filtro della nostra stessa cultura, che include uno sguardo critico sui paesaggi, sulle città e sull'ambiente, indeso, se vi consentite, in una maniera anglosassone di environment. Grazie, insomma, grazie a tutti per essere presso e intervenuti.